E' stata presentata a Palazzo Lascaris la non edizione della festa nazionale dei cuochi e delle cuoche promossa dall'associazione dei cuochi di Torino e provincia in piazza Carignano a Torino sabato 12 e domenica 13 ottobre Tutti i cuochi della nostra associazione entreranno a far parte di questa grande carmes di due giorni dove ci saranno momenti di cultura di cucina, quindi chef che faranno dei piatti, pasticceri della nostra associazione che faranno in diretta lavorazione sul cioccolato piuttosto su questa nuova moda che è il cake design Quest'anno abbiamo sposato l'idea di dare il ricavato di questa grande carmes, di questa grande festa all'albero di Greta Quindi tutto quello che facciamo lo daremo a questa onlus, quindi deve trovarci in tanti perché c'è tanto per tutti